...e' una scelta che è stata di ordine economico, perché noi ci staviamo subito un fatto che per il vaccino per sé, ...e' una scelta che era bella vecchia, perché era perché sono stata di riuscire a fare i compresi di senso che si tratta, ma la scelta non scelta o che era garfiare, era chiaro che era la scelta, e poi ci hai avuto il giusto tra testo, sui senti sul per i pulizzo, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.